Poracci, in questo periodo di grandi incertezze e caldo estremo, Nintendo si è espressa su tre argomenti molto importanti riguardanti lo stato attuale dell'azienda. Durante un botta risposta con gli investitori, il presidente Shuntaro Furukawa ha detto la sua sul futuro del Nintendo Direct e sul problema del Joy-Con Drifting, e quasi in contemporanea la divisione europea di Nintendo ha decretato un importante cambiamento per quanto riguarda il mercato dei codici digitali, Direct, Drifting e Digital. Di di di, anzi, de de de, c'è parecchio di cui parlare insomma, ma prima di iniziare ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per aiutarmi nella creazione di questi video. Partiamo! È da settembre 2019 che Nintendo non pubblica un Nintendo Direct a tutti gli effetti. L'appuntamento è un vero must per i fan della casa di Mario ed è sempre seguito con grande trasporto, tanto da diventare il centro di speculazioni e rumor ben prima del suo annuncio ufficiale. Negli ultimi mesi, probabilmente a causa delle difficoltà dettate dallo stato di pandemia, Nintendo sembra aver abbandonato questa formula comunicativa, prediligendo annunci singoli presentati senza preavviso, un po' come è successo per Paper Mario ed Origami King. Il presidente Shintaro Furukawa, durante un Q&A con gli investitori, si è espresso così sul futuro dei Direct. Crediamo che Nintendo Direct sia in un modo molto efficace di presentare informazioni ai nostri clienti, dialogando con loro in modo semplice e diretto. Ma allo stesso modo i tempi cambiano e così l'efficacia delle strategie per pubblicizzare i propri prodotti. Quindi c'è la possibilità che emerga un nuovo e migliore modo di presentare queste informazioni. Per questo siamo inclini a esaminare tutte le possibili strategie comunicative per arrivare ai nostri clienti. Benché non sia una risposta definitiva, è chiaro che Nintendo non abbia in previsione almeno nell'immediato futuro il ritorno del suo format di successo. Per me è un vero peccato perché per quanto apprezzi l'essere sorpreso senza preavviso, allo stesso tempo adoro il clima che si viene a creare prima di un Direct e trovo anche necessario che venga dato all'utenza un planning preciso sulle pubblicazioni dei mesi a venire. Probabilmente se ne riparlerà a settembre per il prossimo appuntamento con un Direct, però è curioso notare come Nintendo stia abbandonando questo format proprio ora che Sony e Microsoft, tra State of Play e Inside Xbox, sembrano aver fatto propria questa forma di comunicazione. Altrettanto epocale è l'aver finalmente riconosciuto l'esistenza del problema del drifting, anche se non esplicitamente. Questo è quanto ha detto Furukawa. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati ai nostri clienti a proposito dei Joy-Con. Stiamo continuando a migliorare i nostri prodotti, ma al momento i Joy-Con sono soggetti a una class action negli Stati Uniti tuttora in corso e per questo non possiamo dire nulla sugli eventuali provvedimenti che decideremo di prendere. Insomma è chiaro che il presidente di Nintendo si stia riferendo al drifting, difetto che per la prima volta viene riconosciuto effettivamente dall'azienda di Kyoto come problema concreto e diffuso. Ed è un bene che ci sia una class action di mezzo, perché significa che Nintendo, in un modo o nell'altro, sarà costretta a correre ai ripari. Sebbene non mi aspetti dei Joy-Con 2.0, credo che prima o poi vedremo delle revisioni distinguibili solo attraverso dei numeri seriali differenti, che metteranno definitivamente uno stop alla piaga del drifting. Certo, a tre anni dal lancio ufficiale della console siamo in colpevole ritardo e speriamo che venga trovata una soluzione quanto prima possibile. E per finire un altro cambiamento radicale, che questa volta riguarda però solo la divisione europea di Nintendo. L'azienda ha infatti deciso, a partire dal primo di luglio, di mettere uno stop alla vendita di codici digitali da parte di rivenditori esterni. Questo significa che nel territorio PAL EU, d'ora in avanti sarà possibile acquistare i codici dei giochi solo tramite il Nintendo eShop. Questo è un duro colpo per i consumatori, che tramite l'offerta di siti come Instant Gaming riuscivano ad ammortizzare leggermente le spese per i giochi in digitale. C'è da notare però che queste restrizioni sono limitate esclusivamente ai giochi e non agli abbonamenti al Nintendo Online, alle ricariche per il credito sull'eShop e ai DLC. Questo significa che potrete ancora comprare in leggero sconto il pass di espansione di Spada e Scudo o magari il Fighters Pass di Smash. Resta comunque una batosta per l'utenza e rafforza quell'idea di una Nintendo super accentratrice e dà la tolleranza a zero che legittimamente, ma spesso in modo troppo duro, porta avanti delle vere e proprie crociate su temi controversi come l'emulazione, la diffusione non controllata di informazioni e ora anche il grey market dei codici digitali. Poracci insomma, cosa ne pensate di queste 3D? Per me sono delle prese di posizione importante da parte di Nintendo, ma sono curioso di sapere la vostra qua sotto nella sezione dei commenti. Prima di salutarci vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, de de de, ciao!